salve a tutti salve a tutte insomma eccoci qua allora io questa sera sono qua semplicemente perché voglio fare una pre presentazione se mi vedete col telefono in mano non mi sto facendo gli affaracci miei ma voglio aprire la presentazione della serata che vi vado appunto ad illustrare una pre presentazione di quella che sarà la serata del 9 aprile di presentazione del mio laboratorio creativo alchimia espressiva online presentazione online di un corso online che cos'è alchimia espressiva ora vi vado a leggere quello che ho scritto nella presentazione dell'evento facebook ma prima vi dico semplicemente in due parole che si tratta di un corso estremamente creativo innovativo dove io sono andata in qualche modo a pescare tra quelle che sono tutte le mie competenze a livello teatrale a livello musicale a livello vocale a livello di lavoro simbolico di lavoro sugli archetipi mediante la simbologia sempre teatrale ed espressiva eccetera è un lavoro che racchiude tutto questo lavoro destinato agli adulti non è necessario indispensabile avere alcun tipo di competenza per poter partecipare quindi non serve studiare musica non serve aver studiato teatro non serve aver studiato qualcosa in particolare è semplicemente necessario essere adulti è un laboratorio per adulti e avere voglia di fare un lavoro su di sé un lavoro espressivo un lavoro dove si si lavorerà attraverso il canto la recitazione la creatività pur senza avere come obiettivo di calcare un palcoscenico ecco questo è un po il concetto è un lavoro che ha come obiettivi un percorso che ha come obiettivi lo sviluppo della creatività la scoperta la scoperta di nuovi talenti la ricerca di una maggiore armonia di una maggiore come dire dello star bene con se stessi e con gli altri mediante un lavoro espressivo profondo intenso ma al contempo anche divertente e piacevole online perché oggi si può fare solo online ma questo non esclude che un domani e speriamo un domani vicino possa diventare anche un corso in presenza e ciò ancora non esclude che possano esserci due corsi di alchimia espressiva ovvero un corso in presenza finalmente e un corso online anche solo per le persone più lontane vuole partecipare una persona che sta a Roma io sto in provincia di Milano il mondo online ci permette di vincere queste distanze e voi dite ma come si fa a fare online un corso di questo genere è possibile lo spiego venerdì 9 dalle 20 e 30 è necessario prenotarsi per questa serata di presentazione ripeto totalmente gratuita e senza nessun impegno quindi non abbiate timore che partecipare a quella serata gratuitamente poi vi come dire in qualche modo vi ingabbi vi costringa poi alla partecipazione al corso assolutamente no è una presentazione chi vuole partecipare partecipa l'importante che ci sia un minimo di interesse ovviamente alla tematica alle tematiche bisogna contattarmi privatamente la prenotazione è indispensabile quindi il partecipo sull'evento di facebook non è indice diciamo di questa cosa non è indicativo io non lo considero e la serata di presentazione del 9 aprile alle 20 e 30 che sarà tramite piattaforma virtuale io manderò prima il link per connettersi solo per le persone che si sono iscritte si terrà se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti se questo numero minimo di partecipanti non avverrà la serata di presentazione in sé la rimando a quando avrò delle richieste maggiori ma quella sera io una presentazione in formato ridotto la faccio lo stesso mediante probabilmente una diretta facebook o mediante una registrazione come questa che poi carico o su facebook o su youtube molto più breve molto più succinta ma che sarà diciamo divulgata nello stesso orario in cui io avrei dovuto fare la la lezione prova e la presentazione vera e propria ma io mi auguro e voglio pensare che si riuscirà a fare la presentazione vera e propria perché altre persone da qui a venerdì si iscriveranno che quanto tempo c'è per iscriversi io chiuderò volevo chiudere le iscrizioni a giovedì sera ma ho deciso di lasciare un po più di tempo chiuderò le iscrizioni venerdì attorno a mezzogiorno quindi assolutamente chi desidera seguire in diretta quindi essere partecipe cioè voi vedrete me ma io vedrò voi saremo parleremo comunicheremo mediante una una videoconferenza virtuale chi vuole partecipare mi raccomando si iscriva entro venerdì a mezzogiorno mi contatti sul sull'evento facebook trova i miei recapiti mail telefono messenger eh volendo anche telegram eh whatsapp insomma i mezzi sono svariati eh mi contatti perché altrimenti io eh poi chiudo le iscrizioni tiro le somme di quello che accadrà poi durante la sera vi vado a leggere parte della presentazione che ho messo su eh l'invito all'evento di facebook ve la leggo subito serata gratuita di presentazione prova del corso online alchimia espressiva di donatella bartolomei eh perché presentazione barra prova perché in realtà allora è meno sarà meno interattiva di altre eh lezioni prova che io faccio ho fatto eh sarà più eh presenti sarà più la presentazione la mia spiegazione ma poi faremo sicuramente qualche esercizio insieme e parlerò con voi farò delle domande a voi sicuramente sarà un dialogo non sarà una cosa dall'alto da ascoltare questo è l'obiettivo ecco perché l'iscrizione ecco perché perché si creerà un vero sarà una vera e propria un vero e proprio incontro collettivo che eh si svolgerà su una piattaforma virtuale con le persone che avranno manifestato interesse ecco verrà presentato il nuovo laboratorio online dedicato ad adulti di minimo diciotto anni senza limiti di età che volessero intraprendere un percorso unico e particolarissimo si tratta di un percorso dedicato a se stessi all'incontro con gli altri allo sviluppo della propria creatività e dalla scoperta di nuovi talenti mediante mezzi come il gioco teatrale l'arte della narrazione esercizi fisici con la musica l'uso della voce del canto e della libera vocalità lettura esercizi creativi alla scoperta di sé mediante simboli ed archetipi e molto altro creeremo insieme dei veri e propri atti poetici verrà valorizzata l'unicità di ogni partecipante in futuro sarà possibile vabbè poi dico fare il corso anche in presenza eccetera eccetera si tratta di un vero e proprio laboratorio e non di un corso classico avendo la possibilità di aderire a quattro lezioni per volta decidendo a fine pacchetto se proseguire o meno ovvero visto che siamo in tempi in cui non si sa mai no come come vanno le cose nei mesi successivi se ci si può vedere si possono fare le cose in presenza non si possono fare le cose in presenza eccetera eccetera siamo in un periodo particolare anche dal punto di vista lavorativo dal punto di vista degli impegni insomma è inutile che io dica queste cose che tutti sappiamo io lo rendo proprio un laboratorio molto libero che chi vuole poi chi decide poi di iscriversi ed aderire lo può fare con la formula mensile delle quattro lezioni dopodiché decide se proseguire o meno quindi potrebbe essere è un laboratorio quindi è un è un percorso in cui le persone il gruppo può anche mutare nel tempo ecco non è rigido è qualche mia espressiva non è un percorso rigido ma bando alle ciance basta mi fermo qua perché il resto e con dettagli domande tutto quanto io mi rendo disponibile a introdurlo venerdì 9 alle 20 e 30 e quindi aspetto i vostri messaggi per le adesioni ricordandovi che è una serata a titolo assolutamente gratuito e senza alcun impegno in cui potrete chiedere tutte le informazioni possibili immaginabili su questo argomento io vi spiegherò nel dettaglio il percorso e faremo anche un'esperienza creativa sicuramente una forse anche più di una insieme grazie buonasera da me e da Derek e Pimpa che dormono sul divano Pimpa non la vedete vedete Derek e vi salutiamo ciao ciao